Benvenuto sul mio canale. Alcune persone si chiedono perché quando ti iscrivi a un intensivo cominciano a muoversi tante cose nella tua vita. Questo è assolutamente normale. Le tue identificazioni iniziano ad agitarsi, il tuo ego comincia ad avere paura ed ecco che le cose intorno a te, le cose che hai costruito attraverso l'ego, attraverso l'identificazione, attraverso la proiezione del tuo falso io, iniziano a vacillare, iniziano a muoversi, iniziano a cercare una nuova forma, un nuovo modo di esistere. In qualche modo il tuo ego sa che dovrà farsi da parte, sa che dovrà spegnersi, sa che non esiste, che è tutta un'illusione, che è una falsità, che è un sogno che è lì costruito e che semplicemente appare ma il problema fondamentale è che ti ci sei identificato. Quando ti iscrivi a un intensivo sulla consapevolezza di chi sei tu, tutto comincia ad agitarsi, tutto comincia a muoversi nella tua vita. È una guarigione, lascia che questo succeda, permetti che questa manifestazione vada avanti, permetti che ciò che accade dentro di te possa continuare ad andare avanti, possa continuare a esistere così com'è. Senza identificarti, lascia che il cambiamento accada, ogni volta che ti identifichi, stai dicendo io vivo questo, io mi rapporto a questo, io voglio cambiare, io voglio trovarmi. Questo crea il dolore, perché crea separazione, crea l'illusione di una distanza. Non esiste alcuna distanza fra te e tutto ciò che sei. Tu sei la manifestazione, tu sei tutto quello che sta avvenendo. Lasciati con coraggio attraversare e testimoniare i cambiamenti, perché non c'è nessuna cosa che rimane così com'è per tutta la vita. Solamente l'essenza rimane se stessa e tu sei l'essenza. La tua identificazione si sta lentamente sgretolando, si sta lentamente dissolvendo. Bene, lascia che questo succeda. E quando ti troverai seduta lì nella sala dell'intensivo, in un istante accadrà una magia. Comincerai a risvegliarti al presente e una vocina dentro di te ti dirà non c'è luogo migliore dove io possa stare. Iscriversi a un intensivo sulla consapevolezza di chi sei tu. È una trasformazione profonda nella tua esistenza. Un processo di disidentificazione per ritornare nella realtà. E la realtà è questa vasta presenza dove tutto è così come deve essere. E questa è Pepita, il mio pappagallo bellissimo che mi fa compagnia tutti i giorni. A presto cari.